Ascotrade, liceo gas, energia dalle nostre mani. Colpo grosso a Palazzo Ducale, dove è allestita la mostra di gioielli, tesori dei mogul e dei marejà. Che figura di merda! Che figura abbiamo inserito Emilio, Emilio Fede, perché abbiamo fatto veramente una figuraccia mondiale. A Palazzo Ducale, nel cuore di Venezia, due normali turisti, non come nel film Top Capi che avete visto, c'era uno che si... l'uomo mosca l'avevano chiamato nel film, che si calava dal tetto con delle funi e riusciva a sottrarre un pugnale del sultano. No, qui sono entrati due normalissimi turisti, hanno divelto una teca e si sono portati via gioielli del marajà per un valore doganale di 30 mila Euro, ma valgono milioni, questo è stato detto anche dagli esperti. Quindi davvero un fatto sconcertante, inqualificabile e ovviamente tante polemiche. Ne parleremo stasera, vedremo dei servizi da Venezia, poi ovviamente parleremo d'altro. anche di questa forsennata corsa alle poltrone, abbiamo titolato, perché non c'è big della politica anche in Veneto che non riceva almeno 40 sms al giorno in cui gli si dice potrebbe essere utile la mia candidatura, che ne pensi? Quindi devono anche rispondere e non sanno bene come rispondere delle volte, perché si presentano in tantissimi e manderanno i curriculum, insomma vorranno entrare nelle liste. Allora da questo partiamo, aspettiamo i vostri sms, le vostre opinioni e intanto vi presento gli ospiti di questa puntata, Linda Collini, attrice, buonasera. Buonasera direttore, buon anno a lei e ai telespettatori. Grazie, buon anno a tutti ovviamente, attrice, modella, anche collega perché lei ha fatto anche la conduttrice televisiva, insomma, quindi parleremo un po' anche del suo lavoro. Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, buonasera sindaco, bentornato. Grazie. Alessandro Visato che è segretario regionale del Partito Democratico, buonasera segretario. Dimitri Coim, segretario provinciale della Lega a Treviso, buonasera. Diego Cancianna, esponente di Forza Italia, buonasera. Buonasera, buon anno a tutti. Imprenditore e Cristina Pirodi, commerciante. Buonasera, commerciante e molto altro ancora. E quindi parliamo anche di donne questa sera, non capita tutte le volte, ma ovviamente approfittiamo della presenza di donne appunto per parlare anche di loro. Vediamo il primo servizio da Venezia che riguarda questo furto da film che c'è stato oggi, vi dicevo, a Palazzo Ducale. Poco dopo le 10 è scattato per appunto l'allarme che è stato girato la sala operativa della Questura, immediatamente l'intervento sul posto della squadra mobile del commissariato di San Marco, quindi sono già iniziate subito le indagini. Colpo grosso a Palazzo Ducale, dove è allestita la mostra di gioielli, tesori dei mogul e dei marejà, la collezione di Altani. I ladri sono entrati con tutta probabilità da qui, dall'ingresso principale come dei normali visitatori, poi sono riusciti ad aprire la teca, rubare il contenuto e a fuggire senza essere fermati. Mimetizzandosi tra la folla con un paio di orecchini e una spilla per un valore di circa 33 mila euro, valore doganale indicativo che sul mercato nero potrebbe arrivare invece a centinaia di migliaia di euro. Per gli investigatori però sono gioielli difficili da smerciare, perché catalogati è parte di una collezione. Il sistema di videosorveglianza avrebbe comunque immortalato i ladri, che secondo il vicario del questore sapevano muoversi bene. Comunque possa essere un sistema di sicurezza attento e sofisticato, probabilmente è verosimile che prima abbiano individuato le eventuali vulnerabilità che ogni sistema di sicurezza può avere, quindi poi abbiano inciso e quindi abbiano realizzato l'evento furtivo questa mattina. E intanto c'è chi si pone domande anche sulla gestione della sicurezza, che però specifica Odorizio non ha nulla a che vedere con i rischi per la popolazione. Sono sicuramente due temi completamente differenti, ripeto non si possono sovrapporre una sicurezza in termini appunto di sicurezza di ordine pubblico, è un evento delittuoso, sicuramente clamoroso, per il quale comunque stiamo lavorando. Servizio di Ilaria Marchiori, io partirei da Diego Cancianni, un imprenditore che lavora anche a Venezia, Venezia la conosce bene, è abbastanza sconcertante, perché ci sono gli scattolettisti, ci sono i Vucumpra, ci sono anche qui a Venezia, che era un oasi felice, anche i furti in abitazione da qualche tempo a questa parte, adesso addirittura il maxifurto nel Palazzo Reale. La vedo un po' grossa, insomma, perché in Venezia non è che ti muovi, sei sali in macchina e vai, prendi una stradina, un'autostrada, una tangenziale e scappi, cioè a Venezia ti muovi a piedi, sei un ladro solo a piedi, perché non puoi, se prendi un motoscafo ti beccano subito, quindi, non so, secondo me probabilmente c'è stata un po' di, chiamiamola faciloneria, perché, insomma, questi entrano, aprono una teca, prendono la roba e se ne escono. Oltre e tutto è stato chiuso, tutto il Palazzo Ducale nella speranza di intercettare i ladri, ma invece i presenti, quelli che sono stati chiusi dentro, non avevano niente, per cui, cioè, io so che, insomma, quelle poche volte che sono andato a vedere di queste cose, ti avvicini e suona, cioè questi hanno addirittura aperto, sembra che l'allarme sia partita addirittura dopo che avevano richiuso la teca, per cui, cioè, probabilmente, o avevano degli apparecchi elettronici così sofisticati da inibire l'allarme, ma la vedo più dura, vedo più, così, probabilmente qualche piccola, come ha detto Doriso, commissario, c'è sempre un punto debole, qui magari piuttosto che un punto, era un matitone, insomma, per cui ci sono infilati dentro dalla grande, ecco, insomma, diciamo, speriamo che non giri tanto le notizie in giro per il mondo, ma ho paura che, per un bel po'. Temo che da domani in poi sui giornali se ne sta già parlando, ricordiamo il clamoroso furto di un paio d'anni fa nel Museo di Castelvecchio, a Verona, portati via dei capolavori, anche lì tutti filmati, anche in questo caso sono stati filmati, erano in due, uno copriva l'altro, e poi hanno ritrovato i ladri, ricorderete, in Ucraina, no? Quindi era un furto su commissione, sarà un furto su commissione anche questo. Anche qua, la domanda è, se li stanno filmando, ma c'è qualcuno che li guardi alle televisioni o i filmati li mettono in archivio e poi ogni tanto gli danno un'occhiata? Perché, cioè, se li filmano si presume che lo facciano, perché ci sia qualcuno al video che li guarda. Perché se devono filmarli, poi dire, ma tanto li abbiamo visti, cioè... Comunque non vorremmo trovarci nei panni degli addetti alla sorveglianza. Anche la questura ci sarà qualche terremoto lì, no? Perché anche la questura provvedeva alla sorveglianza. Allora, vediamo le reazioni anche di quelli che sono stati rimasti chiusi fuori da Palazzo Ducale. Erano tutti in coda, al freddo, improvvisamente la coda si è fermata, intanto la coda si allunga, come sempre avviene in Piazza San Marco, e si chiedevano anche, cavolo, è successo? Vediamo cosa hanno detto Elaria e Marchiori. Stavamo cercando di entrare per vedere adesso i gioielli, evidentemente qualcuno ci ha preceduto. Era l'unico motivo per cui volevamo vedere oggi, perché sappiamo che è l'ultimo giorno dell'esposizione e poi si conclude. Mentre a distanza di qualche ora dal furto di gioielli a Palazzo Ducale, c'è chi fa la coda ignaro che la mostra sia stata chiusa, perché il cartello di avviso si legge solo una volta giunti all'ingresso, qualcun altro punta il dito sulla gestione della sicurezza interna, che a parte i sistemi tecnologici che possono presentare delle falle, implica anche poca attenzione da parte di chi invece dovrebbe averne molta. È un problema loro, forse non era sufficiente. Mio figlio ha visto la mostra ieri e ha detto che c'erano quattro guardie che chiacchieravano tra di loro, quindi è probabile che ci siano state delle defaianze nella sicurezza. Tutto qua perché è impossibile rubare qui dentro, poi dei gioielli così, a meno che il furto non sia su commissione. È impossibile rubare qua, quindi le guardie sono state inefficienti, o perlomeno erano troppo poche, perché quando si hanno dei tesori immensi è bene sorregliare. E questo è quello che è accaduto in questa sala, che è stata allestita d'accordo con l'organizzatore dei musei civici di Venezia. Dimitri, non c'entra niente con la sicurezza di cui parliamo quotidianamente, però a Venezia, dove si parla spesso di allarme, terrorismo, si tiene alta la guardia, ci sono i gersi davanti a Piazzale Roma, i mezzi blindati, vedere che qualcuno entra e fa quel che gli pare a Palazzo Lucale è abbastanza impressionante. Non aiuta a rasserenare coloro che sono più delle volte impressionati dalla clientela comune, insomma, dai furti in abitazione, da quello di cui... Siamo che gli organizzatori della mostra, ma anche chi è andato a visitarle, è stato abbastanza fortunato, perché ha trovato dei ladri gentiluomini, perché alla fine sono andati a rubare l'ultimo giorno, quindi... Era l'ultimo giorno, è vero. E hanno lasciato i guardali, quello che volevano vedere entrando alla mostra. No, effettivamente è preoccupante, perché se c'è questa leggerezza nel controllare una mostra con dei preziosi, purtroppo sappiamo perfettamente che le stesse leggerezze a volte capitano anche nelle sorveglianze negli aeroporti piuttosto che nelle città e in tutti quei punti sensibili dove invece bisognerebbe essere molto attenti sul controllare quello che accade. È vero che è difficile tenere tutto sotto controllo, però è anche altrettanto vero che in un momento come questo, ribaltando non solo in quello che è successo e quindi nel fatto che abbiano portato via di beni materiali, ma in quelle che possono essere anche delle sicurezze reali della quotidianità che viviamo tutti i giorni, le attenzioni devono essere molto elevate, non bisogna guardare i filmati, tenerla ai filmati e guardarli semplicemente dopo. I casinò, nei casinò, controllano tutti i tavoli, un pool di persone per verificare se effettivamente tutto si svolge correttamente. non è successo. Abbiamo fatto una pessima figura, però questo è indiscutibile. Cristina Pirodi? Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Allora, io sono veneziana, lavoro a Venezia, quindi ci sto tutti i giorni. Allora, Venezia è una città particolarissima. È sicuramente difficile da controllare, proprio perché è una città pedonale, è una città invasa quotidianamente da... 30 milioni di turisti all'anno, in un anno. Esatto, da un numero indefinito di persone. Però appunto, secondo me, comunque è una città sicura, perché potrebbe succedere davvero qualsiasi cosa. Quindi comunque, dal punto di vista della sicurezza, cioè io mi sento sicura quando vado in giro per la città. Ovvio che la quantità di opere d'arte, di mostre, di cose che appunto, di valore, che si possono trovare appunto nella nostra città, mettono sicuramente a dura prova la gestione della sicurezza in generale. È ovvio che, mi sembra anche di capire, da quello che appunto hanno detto le signore fuori, che la saggezza popolare forse arriva un po' prima, rispetto magari a chi di lavoro fa questo, e forse magari un po' più di attenzione da parte anche magari delle persone che non si occupano di sicurezza all'interno, ma che magari potevano dare un occhio magari... Evidentemente nessuno ha visto questa scena. Un po' di leggerezza in questo caso, ecco, in questo caso specifico credo proprio leggerezza. Probabilmente forse abituati dal fatto che magari fino ad oggi comunque non era mai successo nulla. Però sicuramente è una città sicura, è una città controllata. Allora, ma i nostri politici dall'Europa sono capaci di mettere in pratica solo le spese come i sacchetti per la spesa? Ci sono cose molto più importanti da mettere in pratica? Ma non c'è da niente l'Europa qua. Sì, ma poi ne parliamo perché abbiamo anche dei servizi sui sacchetti. Esatto. C'è gente che gira, ho visto oggi una signora con carote, patate, cetrioli, che andava verso casa, pur di non per principio il sacchetto. C'è anche questa ritorzione del consumatore. Volete aumentarmi il peso del sacchetto? Io me lo porto con le mani. Allora, vi dicevo, vediamo un altro caso di cronaca nera. Poi passiamo, parliamo anche e soprattutto di politica, perché insomma ci sono le elezioni del 4 marzo, abbiamo qui due segretari di partito, quindi parliamo anche di questo. Ovviamente, ma vediamo questo fatto di cronaca nera, qui è stato picchiato un parroco nella canonica. Vediamo. Io ho sentito il rumore, era entrato uno con la linterna che è in stanza mia, verso le 4. A parlare è il fratello e coinquilino di Don Sigfrido Crestani, il parroco di Longare, che cercando di impedire l'ennesimo furto in canonica, ha invece subito la violenta reazione dell'aggressore. Il tutto si è svolto, poi è uscito di lì, l'ho visto tutto acceso, e sono venuto giù alle scale, che cosa succede qua? Poi ho visto che il fratello sanguinava. Don Sigfrido ha sbattuto la testa, subendo un trauma cranico cadendo a terra. C'è la sua stella dei re magi qua. Poteva andare molto peggio. La prognosi fortunatamente è di una decina di giorni, ma la ferita vera è un'altra. È un'umiliazione, specialmente che è un parrocchiano, che lui conosce, che ha trattato altre volte, il presunto ladro e aggressore sarebbe infatti uno straniero, che al momento ha fatto perdere le proprie tracce. Una vecchia conoscenza per altri fatti simili in paese, che oggi reagisce sgomento alla notizia. Il parro è una brava persona. È una parola per tutti, dunque trovo strano che lo aggrediscono colui. Anche troppo buono, troppo buono. Quindi questo ragazzo doveva essere fermato prima. L'accoglienza e la disponibilità sono nobili virtù, che però stanno perdendo sempre più sostenitori. L'ongare a breve, infatti, si appresta ad ospitare una nuova comunità di richiedenti asilo. Ma certo, è preoccupato, siamo preoccupati. In mezzo a 20 di scuro ci sarà uno o due che ti mettono le mani ad osso o fanno i criminali. Il buonismo è distruttivo. Noi siamo qui, non solo per fare l'ospedale da campo, ma le scuole per promuovere l'uomo nella sua giustizia e voglia di lavorare. Il servizio di Andrea Garbine, non passa giorno senza che non si debba dare fatti di con la canera. Linda Collini era stata inquadrata in una sigla, in una precedente puntata, con una pistola in mano. Ovviamente lì era un film di cui lei era protagonista e quella era la parte che spesso viene rappresentata al cinema. Poi noi ci troviamo a dover dar conto ogni giorno di immagini che una volta erano solo cinematografica. Noi invece adesso con le telecamere, sembra di vedere dei film. Lei da donna, più che da attrice, come vede il fenomeno oggi della violenza in Veneto? Cioè la mancanza di sicurezza, insomma tutti i fatti, i furti in abitazione, le aggressioni, insomma c'è purtroppo una... molta attenzione da parte dei cittadini, no? Rispetto a quello che sta succedendo. Molta attenzione, anche e soprattutto ascoltando questi fatti. A me ha colpito il giornalista in particolar modo quando ha detto che la persona appunto che ha derubato il parroco, era una persona già conosciuta, era una persona che probabilmente il parroco aveva già cercato di aiutare. Quindi al di là della finzione, la realtà a volte è peggio, perché va a tradire quelli che sono i sentimenti a volte anche di queste persone che cercano di aiutare e che invece vengono traditi appunto da chi in qualche modo... È un classico questo, no? Abbiamo cercato di aiutare. Molto spesso succede, sì, sì. Io sono sempre stata abituata a vivere in un palazzo, anche piani molto alti. In realtà qui in Veneto sto in una casa singola e io molto spesso mi chiedo quanto posso essere sicura e se sono sicura. Anzi, io sono contenta perché sto in una zona residenziale, quindi sono circondata da persone. Io dico sempre, se rimango in casa da sola e mi succede qualcosa, apro la finestra e inizio a urlare. Questo è un po' il mio allarme in casa. Però la questione della sicurezza si ripropone più e più volte. Senta, e lei per esempio ha sistemi d'allarme, perché si dice sempre al settore della sicurezza è tra quelli più attivi e più, tra virgolette, fortunati dal punto di vista economico, perché si vendono molti sistemi d'allarme, si vendono molte porte blindate, telecamere. Allora, sì, io in realtà nella casa dove sto ora sto da poco tempo, quindi però penso di mettere l'allarme, anche se io conosco persone che pur avendo l'allarme sono state lo stesso derubate. Quindi anche quando si ha comunque il sistema di allarme bisogna stare lo stesso attenti. Ecco. Allora, prima di andare da Alessandro Bisatto e da Jacopo Massaro, segretario del Partito Democratico in Regione del Veneto, il sindaco di Belluno, vediamo un altro servizio. Qui siamo sempre a Venezia e qui sempre di cronaca nera parliamo. A quasi un anno dall'ultimo episodio, piazza San Marco di nuovo violata dalla criminalità organizzata. Risale al 17 marzo del 2017 il precedente più clamoroso, almeno in tempi recenti, di banditi che hanno preso di mira l'area più preziosa e delicata di Venezia. Le immagini della tentata rapina in una gioielleria all'ombra del campanile avevano fatto il giro del mondo, suscitando non poche polemiche per la facilità di attaccare una zona così sensibile dove i livelli di sicurezza dovrebbero essere al massimo. La pronta reazione del personale del negozio e di un turista che dall'esterno si era accorto di quanto stava avvenendo e aveva allertato le forze dell'ordine impedì al comando di professionisti di impadronirsi del bottino. Per coprirsi la fuga i banditi avevano azionato dei fumogeni scatenando il panico tra una nutrita folla di turisti presente in piazza. A distanza di dieci mesi quella vicenda non è ancora conclusa. La lunga indagine dei carabinieri ha progressivamente ristretto il cerchio intorno all'identità dei rapinatori. Si tratterebbe di un noto gruppo di pregiudicati originari dell'Europa dell'Est. Alcune impronte digitali lasciate da uno di loro sul luogo del delitto seppur parziali potrebbero costituire l'indizio principale per risalire all'identità dei predoni che secondo alcune indiscrezioni avrebbero nel frattempo lasciato il paese per sfuggire alla caccia dei militari. Il servizio di Tommaso Stoppa, il sindaco di Belluno nevicava oggi? No, oggi non nevicava però nei giorni scorsi abbiamo avuto un po' di fenomeni interessanti sicurezza Belluno voi siete al top della classifica noi siamo fortunatamente al top della classifica nazionale qualità della vita qualità della vita e anche della sicurezza tra l'altro che è uno degli indici che ci ha trascinato in alto per la qualità della vita è un dato molto positivo c'è da dire che probabilmente anche la collocazione storica proprio la collocazione geografica della nostra area probabilmente nel corso del tempo ha consentito di acquisire questo beneficio rispetto ad altre aree io dico però faccio una considerazione generale un po' in controtendenza io penso questo però guardavo anche adesso i servizi abbiamo forse la fortuna e non ce ne accorgiamo e dobbiamo sottolinearlo che tutto sommato alcuni dei reati più violenti che ci sono stati tradizionalmente che siamo stati abituati ad avere sono in forte calo non ce ne accorgiamo perché noi oggi viviamo in una società nella quale i social media sono pervasivi della nostra vita per cui se in questo momento fanno un furto in appartamento a Belluno fra 5 minuti anche sul mio cellulare verrà fuori che c'è stato un furto lo sapranno tutti in verità un tempo i furti ne facevano molti di più solo che semplicemente non si sapeva oppure c'era un trafiletto sul giornale a cui tutti davamo un rilievo molto parziale allora questo significa che dobbiamo guardare in modo critico credo come possiamo dire la sensazione che ci dà la situazione della sicurezza in generale da un lato dall'altro vedere positivamente il fatto che la gente oggi richiede più sicurezza quindi è diventato per noi un valore tra virgolette innato il fatto che nel 2017 dobbiamo pretendere più sicurezza dobbiamo pretendere di essere di stare tranquilli e sicuri nelle nostre zone io dico questo penso adesso guardando la vicenda di Venezia credo probabilmente che in questo momento tutte le nostre come possiamo dire forze dal punto di vista della prevenzione siano concentrate prevalentemente sull'aspetto dell'antiterrorismo suppongo almeno che sia così non sono un aspetto ma partecipo anch'io ai comunitati ordine e sicurezza quindi so come ci stiamo organizzando nei vari territori e quindi credo che questo sia l'orientamento prevalente delle forze dell'ordine detto questo come veniva detto poco fa qualunque sistema di prevenzione antifurto o quello che è è superabile è chiaramente una questione prevalentemente di tempo che ci mette il criminale per compiere il suo atto oppure di come possiamo dire rendere difficoltosa la strada nel raggiungere questo obiettivo quindi non ci dobbiamo stupire del fatto che vengano a rubare in piena Venezia perché è una cosa che può capitare se sono professionisti riescono a farlo semplicemente è questo ci dobbiamo concentrare invece sul fatto che per esempio alcune delle nostre abitudini qui parlo per Belluno più che non per il resto del Veneto devono cambiare da noi siamo sempre stati abituati anch'io quando ero bambino la porta di casa rimaneva aperta e le macchine fuori di casa le lasciavamo aperte alcune volte con le chiavi dentro è una cosa che oggi non si può più fare il problema è che le persone anziane hanno ancora quell'abitudine quindi dobbiamo cominciare a capire che anche se ci sono meno omicidi meno rapine meno cose però è chiaro che adesso l'auto se la lascia aperta te la rubano non è che sia una cosa impossibile quindi credo che dobbiamo rivedere un po' in modo diciamo globale questa situazione e pensare che ci sono alcune cose che possiamo fare noi cittadini come per esempio attrezzarci meglio sicuramente contro i furti e contestualmente capire che siamo più concentrati forse come forza dell'ordine sulla prevenzione antiterrorismo su cui mi permetto di dire di cui io sono molto soddisfatto onestamente non fanno notizia mai ma io li seguo perché mi interessa ogni giorno non ogni giorno ma un paio di volte alla settimana come si noterà ci sono persone che vengono espulse e vengono rimpatriate di forza e caricate su un aereo e mandate via a scopo prevalentemente diciamo preventivo proprio perché ci sono dall'aeroporto del Belluno però perché no dall'aeroporto del Belluno no perché guardi non so lei dove li vede da Belluno due persone le hanno mandate via vi garantisco ma forse a Belluno due persone perché dal resto d'Italia ieri l'altro ce ne erano sette era l'Ansa non è che l'ho detto io allora tutti i supermercati i sacchetti della frutta erano già conteggiati questa è una tassa sia chiaro e ne parleremo perché stanno arrivando tantissimi sms sui sacchetti che costano non costavano adesso bisogna cacciare qualche centesimo hanno aumentato le pensioni di circa 70 euro l'anno hanno aumentato le tasse di 1000 euro e c'è proprio la tassa allora Alessandro Bisatto eccoci qua buonasera corsa forsennata alle poltrone anche lei viene richiesto di capire se ci sono spazi per candidati c'è molta ci sono tante ambizioni comprensibili però è ovvio che in un momento in cui ci sono delle elezioni alle viste e la situazione è quella che è la prospettiva di diventare parlamentare attira certamente fagola a tanti fagola a tante persone non posso dire il contrario è chiaro che siamo nel pieno delle elezioni vanno fatte le candidature e ogni forza politica cerca di trovare i giusti rappresentanti sul territorio per quanto mi riguarda e ci riguarda nelle prossime settimane cercheremo di trovare una quadra tra parlamentari uscenti qualche espressione nuova sul territorio sapendo che per noi è una situazione non è facilissima qui in Veneto per lo meno per il tipo di legge elettorale che è stata portata avanti e quindi è chiaro che in particolare sui collegi uninominali cioè un po' anche con l'aver perso una parte della sinistra che poi si è trovato rassemblement intorno a Pietro Grasso ci mette in qualche difficoltà in alcuni collegi però io penso che trovando la giusta espressione territoriale potremmo giocarcela in più ambiti almeno questo è l'auspicio perché altrimenti significherebbe che non stiamo giocando nel migliore modo possibile la nostra partita più in generale vedevo anche qualche acceno di qualche telespettatore è tutto da stabilire se poi questo partito democratico sia la rovina che si vuole far prefigurare in particolare dai social media a cui si faceva riferimento prima anche dai sondaggi vediamo anche dai sondaggi è chiaro che i sondaggi in questo momento non stanno giocando a nostro favore io dico sempre ai cittadini mettete in fila le cose che sono state fatte dandoci il giudizio che ritenete e soprattutto fate una somma su una legislatura piena vissuta vengo anche da un'interlocuzione con un'altra parte politica e mi viene detto negli ultimi 5 anni tutti sono non eletti ad esempio in particolare i presidenti del consiglio ma signori cominciamo a fare un po' di educazione civica non c'è mica scritto in costituzione che il presidente del consiglio debba essere eletto dei cittadini è un sistema parlamentare in cui il presidente della repubblica dà l'incarico a qualcuno di comporre un governo di trovare la fiducia nelle camere altrimenti anche qua ci riempiamo la bocca sempre di questi termini avevamo la possibilità di cambiare una costituzione l'anno scorso l'abbiamo voluta cambiare quando fa comodo prendiamo un pezzo di costituzione che ci serve vincolo di mandato numero dei rappresentanti in Parlamento quando abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa non lo facciamo diciamo che quello era sovranità il popolo quindi attenzione se cambiate le cose giuste il popolo vi dà ragione vedremo quando chiedi al popolo di cambiare le cose se pensa che siano giuste ti dice sì se pensa che siano sbagliate ti dice no la riforma della devolution prima eravamo in una trasmissione con Dimitri Cohen e ci siamo rimpallati che era stata fatta una proposta dieci anni fa cassata dal popolo ne è arrivata un'altra questo significa che il sistema il sistema in generale è in crisi e noi da ceto politico dovremmo avere la forza di dire a schiena dritta le cose veramente come stanno e invece adesso ci troveremo per due mesi a riempirci la bocca chi più chi meno di promesse irrealizzabili ecco un'ultima cosa che lancio in apertura quasi di trasmissione vi prometteranno mari e monti vi diranno che è possibile avere la pensione a 1000 euro che è possibile non avere più la riforma a Fornero e che è possibile pagare le tasse al 15% signori fate due conti sulla carta dei formaio si diria in Veneto e capirete che sono irrealizzabili perché se hai meno entrate dalle tasse dovrai tagliare da qualche parte e in Veneto qui in questo glorioso Veneto noi da amministratori locali perché io sono anche prima di tutto sindaco potremo aprire una grande riflessione su cosa è stata ad esempio la riforma del socio sanitario quando possiamo dire entrambi che il territorio sta tornando indietro perché c'è una sanitarizzazione della sanità in Veneto e i disvalori li troveremo di qui a qualche mese allora signori mettiamoli in fila ognuno prenda la decisione che vuole vedete che io non sto dicendo votate partito democratico ma non credete a priori alle cose strampalate che vi diranno Arsenio Lupen ha colpito ancora con riferimento a Palazzo magari a Palazzo Lupen sì erano due laduncoli o comunque dei professionisti senza dubbio ma non pare fossero diciamo di chissà quale levatura Dimitri Coen mi ha fatto sorrita il passaggio quando diceva vi prometteranno Mari e Monti per carità Monti no l'abbiamo già avuto e poi più che la legislatura piena è stata una staffetta è stata una staffetta perché i governi si sono alternati il Presidente del Consiglio ne abbiamo cambiati 4, 5 abbiamo perso anche il conto l'unico che non ha fatto il governo come dicevamo prima è quello che in realtà poi aveva capitanato la sinistra all'elezione del 2013 cioè Bersani che è stato l'unico che quando nel post elezioni le compagini che poi avevano dovuto formare il governo con lui gli hanno detto no grazie e quindi poi Napolitano ha girato ed è andato da altre parti la riforma costituzionale il pericolo la riforma costituzionale che è stata cassata dai cittadini era il combinato che c'era tra la riforma stessa e la legge elettorale che era stata portata avanti dal governo precedente quindi i cittadini l'hanno capito perfettamente poi se vogliamo si esattamente poi se vogliamo metterci anche che Renzi l'ha voluta personalizzare in maniera completamente sbagliata e quindi un po' raccolto anche quelle che erano le volontà di far di ricevere un segnale che andava nella direzione di dire non stai governando bene non stai ministrando bene è stato tutto tutto un insieme di cose ma non è colpa di chi o responsabilità di chi è stata dall'altra parte nel nel lagone politico cioè quando commetti gli errori devi esserne paghi le conseguenze e devi anche farne un'analisi un'analisi seria lui l'ha fatta ha detto mi dimetto e ha messo Gentiloni con la speranza che poi andasse via in realtà poi Gentiloni l'ha tirata ancora più lunga mi pare che Gentiloni non ha un discreto consenso da parte della cittadinanza Gentiloni in questo momento da quello che mi risulta è che leggo dai giornali però senta quindi c'è un accordo sentivo paroli sul candidato unico sia a Treviso che a Vicenza per il centrodestra no? è così? ma c'è stata la scelta anche del candidato per ora il candidato su Treviso è Mario Conte è vostro è Mario Conte quindi non si discute però c'è anche ancora su Vicenza invece da Treviso io non entro nel merito delle scelte ma di che chi è fuori fuori causa diciamo a Treviso beh non lo so se sia fuori causa no non è stata sciolta manca la comunicazione ufficiale da quel che sono insomma la trattativa è stata affrontata e ci auguriamo insomma che a breve venga ufficializzato anche l'appoggio da parte di Forza Italia su Mario Conte ecco allora vediamo un servizio da Treviso proprio sul centrodestra poi torniamo da Cristina Pirodi da Diego Canciano da Linda Collini da tutti i nostri ospiti vediamo Treviso c'è un accordo nel senso che si è concordato Forza Italia e Lega che nei capoluoghi di provincia quindi Vicenza e Treviso la coalizione presenterà un unico candidato quindi nei prossimi giorni nelle prossime settimane al massimo si farà sintesi per trovare il candidato di Vicenza e il candidato di Treviso dunque un primo accordo tra Forza Italia e Lega per le amministrative è stato raggiunto la coalizione si presenterà con un unico candidato ma il nome al momento non è dato saperlo bisognerà attendere spiega il coordinatore Adriano Paroli i prossimi giorni sembra sempre più vicino dunque a Treviso un passo indietro del candidato azzurro Andrea De Checchi a favore del leghista Mario Conte Paroli su questo punto non si sbilancia anche se spiega come la volontà di tutti i candidati a Treviso come a Vicenza sia quella di portare il centrodestra alla vittoria De Checchi come tutti gli altri insomma è candidato ed è disponibile allo stesso tempo a fare come si dice un passo di lato le decisioni le prenderemo anche insieme a lui una volta ufficializzato il nome del candidato sindaco tra le forze in campo sarà il momento di pensare ad eventuali incariche all'interno della giunta in caso di vittoria le coalizioni hanno poi la suddivisione anche di responsabilità amministrative all'interno della giunta così come altri equilibri ma questi equilibri verranno trovati all'interno della coalizione il servizio di Francesca Bozza con il furto a Venezia viene confermato che siamo un paese di polli perché siamo governati da polli Cristina Pirodi a proposito di istituzioni di politica abbiamo visto il 22 ottobre entusiasmo in Veneto per il referendum per l'autonomia 2 milioni 400 mila persone sono andate a votare si teme per le prossime elezioni il 4 marzo invece una grande astensione perché lì di entusiasmo ce n'è molto meno ci sono le beghe tra partiti insomma c'è la legge elettorale di cui parlava prima visato su cui tra l'altro avevo intervistato la settimana scorsa Massimo Cacciari e Cacciari non ride quasi mai quando ride è anche molto simpatico e diceva ma io non capisco come si fa a fare una legge che va contro se stessi diceva un autolesionismo perché questa legge elettorale sfavorisce il PD che non può fare diciamo poi in questo momento una grande coalizione e si dice ma come è possibile vabbè ma a parte questo lei come come giudica la diciamo il l'atteggiamento delle persone nei confronti della politica in questo momento allora appunto non occupandomi io di politica ma essendo una cittadina quindi posso portare appunto il nostro stato d'animo che è quello secondo me di purtroppo sfiducia di grande sfiducia nei confronti di questa classe dirigente che comunque ha dimostrato in questi anni di non essere adeguata in generale in generale sì alle necessità del paese questo vale anche per i precedenti governi ma sicuramente sì gli ultimi 15 anni sono stati un periodo secondo me brutto per il nostro paese da questo punto di vista quindi è abbastanza naturale che appunto i cittadini abbiano sfiducia e volevo appunto se mi è permesso ricollegarmi appunto al discorso prima delle riforme costituzionali perché ogni qualvolta il popolo italiano viene chiamato ad esprimersi su una qualsiasi appunto riforma costituzionale la boccia cioè perché perché comunque non si fida non si fida secondo me dell'operato dei politici che propongono queste variazioni alla fine la carta costituzionale è una delle poche cose a cui il popolo si aggrappa si attacca e la vede la sente come comunque una legge che in qualche modo lo tutela non è dello stesso avviso quando appunto i politici che attualmente di tutti gli schieramenti si occupano di questo non ci danno appunto la stessa garanzia la stessa sicurezza che ci dà la nostra carta costituzionale e quindi io almeno sì la cambiamo è necessaria è necessaria secondo me esatto è necessario assolutamente ma infatti il cittadino quando è chiamato risponde è sì che risponde prima di essere chiamato deve partecipare alla vita politica il cittadino deve essere chiamato a esprimere anche per esempio con la scelta dei candidati fin tanto che i candidati vengono scelte dalle segreterie politiche il cittadino anche se viene a votare vota qualcuno che avete scelto voi ma no non faccio parte di segreteria ma va bene ma non è questo il problema quindi si è perso il collegamento con il territorio ma impegnatevi nei partiti ma impegnatevi nella politica italiana la politica non è niente a strato dove il segretario regionale del PD il segretario regionale della Lega o quello di Forza Italia o quello di Ciccio Bariccio decide fa e briga per conto suo è lì perché ci sono degli iscritti che lo hanno votato eletto nominato dai ci stai certo ma più gente partecipa più la cosa diventa interessante lei lo sa meglio di me sono abbastanza chiusi no non sono così semplici no mi scusi lei rappresenta un'associazione ce la posso assicurare perché crede in quella associazione che è un'associazione libera che è un'associazione libera che è un'associazione che le permette di raggiungere un obiettivo esatto bene però non si impegna in quello che è la sua quotidianità di tutti i giorni e lascia che qualcuno decida della sua vita del suo giorno della sua vita non è vero non può essere la responsabilità del cittadino e fare il reso della politica ma stiamo facendo questo ragionamento ma non è affatto vero stiamo dicendo che più gli italiani si impegnano e meno si se ne fregano più la politica quando il cittadino viene data la possibilità di esprimersi e di poter in qualche modo incidere nelle scelte lo fa volentieri a Cavallino Treporti abbiamo avuto un problema in ambito sanitario quando praticamente la regione Veneto ha riorganizzato le asle dalla sera alla mattina ci siamo trovati prima appartenevamo all'asle 3 Serenissima di Venezia ci siamo trovati invece nell'asle del Veneto Orientale in pochi mesi i cittadini si sono attivati si sono costituiti in comitato abbiamo raccolto 4.700 firme a queste 4.700 firme nessuno ha ancora risposto e qui mi riferisco agli organismi che governano la regione Veneto quindi non è vero che al cittadino quando si chiede di impegnarsi non risponde lo fa e come perché è della sua vita non gli è stato chiesto vi hanno creato un problema e siccome l'avete sentito sulla vostra pelle avete reagito e siete voi politici che non li ascoltate i cittadini è certo che è così la mia storia personale dimostra che è la politica che deve fare il suo primo passo che non possiamo scaricare sui cittadini la responsabilità dei fallimenti della politica allora a Belluno una piccola realtà chiaramente ma a Belluno la politica non funzionava dava continue come possiamo dire delusioni ai cittadini io facevo parte di un partito non condividevo la modalità con la quale il partito stava affrontando le questioni che stava dicendo la signora adesso le questioni della credibilità le questioni della modalità attraverso cui relazionarsi con i cittadini il contatto col territorio c'è stata una gran baruffa non entriamo nel merito di questo perché ormai è storia passata non ci interessa più me ne sono andato dal partito insieme a un'altra decina di persone del partito abbiamo messo in piedi una lista civica ne abbiamo costruite altre due abbiamo vinto le elezioni cinque anni fa e a dimostrazione del fatto che non è stato un caso sporadico e una così una che ne so una vittoria spot cinque anni dopo abbiamo rivinto raddoppiando i voti il che significa e guardate noi siamo liste civiche ma non è un progetto civico è un progetto politico cioè che esprime una visione precisa della città di come deve essere ma l'abbiamo fatto come politici politici nel piccolo ripeto di Belluno per l'amor di Dio nessuno era un consigliere comunale era un capogruppo per un partito non è questo quindi da cittadino si è applicato no no da cittadino io ero dirigente di un partito e mi sono preoccupato del fatto che la politica doveva cambiare e se il mio partito non era in grado di cambiare l'ho dovuto cambiare io ma non dicendo ai cittadini eh ragazzi finché non vi come si può dire rimboccate le mani che voi noi continuiamo a fare gli stessi errori che prima dobbiamo ribaltarla questa visione qua perché la politica è ora e io la difendo la politica perché io ci credo profondamente della politica però la politica è ora che si assuma la propria responsabilità dei propri fallimenti che non vuol dire essere né scemi né cattivi né ladri si fanno degli errori in tutto ma non è pensabile che nel 2017 dopo 20 anni o 30 anni di errori continuativi a sinistra a destra non sto tirando in mezzo tutti e nessuno certamente al termine di tutto questo ogni volta che accendiamo la televisione vediamo ogni partito che dice che lui fa tutto giusto e che qualunque cosa abbia fatto l'altro partito è sbagliato dalla A alla Z non è possibile perché tutti lavorano si immagina e si spera per il bene comune tutti hanno delle proposte e dovrebbero confrontarsi sulle varie proposte io faccio fatica e sono uno impegnato in prima persona ma oggi faccio fatica a riuscire a distinguere esattamente quali siano le reali visioni politiche rispetto a quello che c'è da fare oggi perché io vedo soltanto una gran bagarre per dire che l'altro è più scemole di noi è un errore madornale perché la politica non riesce a mantenere su di sé la capacità di essere credibile per il cittadino per cui riforme anche giuste io per esempio ero favorevole non mi piaceva tutto il referendum però ero complessivamente favorevole è chiaro che anche le cose giuste che si fanno dopo non transitano perché i cittadini non ci credono più e non possiamo dire che è colpa ai cittadini bisogna cominciare a dire che se i cittadini non ci hanno creduto abbiamo una grossa responsabilità che dobbiamo rimediare allora prima di tornare da Linda Collini vediamo un esponente politico del centro-sinistra di Vicenza Jacopo Bulgarini Deci che si è impegnato molto sulla cultura è stato vice sindaco a Vicenza ha partecipato alle primarie e lì ha detto proprio ho perso malissimo e molti si sono anche stupiti perché essendo vice sindaco e avendo fatto molto sul versante culturale si pensava che fosse il favorito vediamo adesso dopo qualche tempo da quel giorno delle primarie vediamo con Otello ci siamo visti lui è il candidato della nostra coalizione e stiamo cercando di capire che spazi ci sono che interesse anche da parte sua di coinvolgermi di coinvolgere il mio gruppo e che spazi ci sono per poter collaborare nessuno strappo nessuna divergenza almeno a parole consci che oggi per mantenere Vicenza nelle salde mani del centro-sinistra serve un lavoro di squadra anche se magari i punti di partenza per dare una nuova connotazione della città sono diversi tra chi vuole sganciarsi da un passato ingombrante e chi di quel passato invece vuole far tesoro e perché no come lo stesso Bulgarini farlo correre lungo il fil rouge della bellezza ma ci saranno gli estremi? non lo so se ci saranno le condizioni per proseguirlo in qualunque scenario per il futuro ma questo non spetta a me deciderlo perché non sono io a dover guidare la coalizione nostra o altre coalizioni per il prossimo futuro lui Jacopo Bulgarini delci si è preso del tempo per riflettere chissà se il suo destino sarà quello del gruppo che lo ha sostenuto che cosa farò io ve lo dirò nell'arco di qualche settimana ma le idee me le sono abbastanza chiarite ho una serie di ultimi incontri con i nostri associati i nostri supporti intanto dal torino di piazza Castello aperto da poco alle visite mando un consiglio a chi vuole amministrare la città a volte bisogna volare alto proprio la torre è un buon punto di osservazione per capire la città e questo è il consiglio che do venire qua guardarla dall'alto vedere il vecchio e il nuovo l'antico e il moderno il bello e il brutto e farsi un'idea all'altezza non soltanto il basso ma all'altezza a volte aiuta Gabriele Abbasso vedremo cosa farà Achille Variatti che è stato sindaco di Vicenza per molti anni allora Linda Collini il fatto che così i cittadini badano poco a votare questa stensione crescente ecco dipende da apatia o dalle responsabilità di una politica che non che non diciamo che promette non fa e che litiga eccetera lo diceva anche prima lei direttore c'è paura per l'astensionismo ma quando le persone si astengono dal votare io perlomeno la vedo in questo modo non si astengono perché non vogliono votare a volte non si astengono anche per protesta a volte non si astengono perché non hanno idea di chi votare cioè non sanno chi votare non sanno chi per loro è meglio per il loro paese e questa non è colpa del cittadino perché è vero alcuni non si informano ma alcuni non hanno neanche gli strumenti adatti per informarsi e lo diceva prima lei sì a volte diciamo il mezzo più immediato per molte persone che stanno a casa è la televisione per informarsi a volte ci sono delle tribune politiche di cui parlano di tanto litigano soprattutto di tanto urlano di tanto ma in realtà se stringiamo c'è molto poco anche qui succede qui no io sono stata ospite l'altra volta in realtà mi sono trovata molto bene è stata fortunata questa sera mi sto trovando toni pacati ognuno ha anche lì è stata fortunata ci litiga ma sono ma anche lì è stata fortunata però per questo dicevo io parlo da cittadina non faccio parte di associazione e di niente anche io da cittadina sto cercando di fare il mio ma siamo tutti cittadini anche io sto cercando di fare il mio io sono un'attrice ho deciso sono toscana mi presento perché lei è direttore mi conosce ma i suoi ospiti forse no e ho deciso però di vivere in Veneto perché io in Veneto sto bene però ho trovato una bella regione carente sotto certi punti di vista e parlo del mio perché io sono un'attrice e sto parlando delle produzioni televisive come dicevo l'altra volta io sto cercando di fare del mio perché ho presentato un progetto io insieme al mio compagno e collega Igor Barbazza in regione per portare le produzioni in Veneto e a tal proposito insomma vorrei fare un plauso perché alla regione Veneto che il 21 dicembre hanno votato la fondazione per una Veneto Film Commission che finalmente ha anche risorse sono arrivati dei finanziamenti che possono in qualche modo ingranare così come le altre regioni perché il Veneto è la locomotiva d'Italia ma dal punto di vista cinematografico sta un po' cinematografico e di produzioni televisive sta un po' arraccando e insomma vogliamo che la situazione migliore tanti di produttori come Laiole Laiole Film di Francesco Bonsambiante di Marco Paolini poi c'è 360 gradi di Rosale ce ne sono diverse di produzioni sono tante produzioni però c'è hanno bisogno di benzina e tante attrici tanti attori tanti talenti che dovrebbero essere ma anche maestranze che possono lavorare quindi in realtà come cittadini si cerca di fare qualcosa è chiaro che anche la politica ci deve venire in conto ma quello è fuori da ogni discussione ed è basilare per qualsiasi cosa quello che però io non riesco a capire è perché l'esempio che ha fatto il sindaco di Belluno è lampante su questo quando si fa una elezione comunale c'è un fervento e un movimento naturale nella città di impegno da parte di tutti i cittadini no? e il sindaco e anche Perazza che è sindaco lo sa benissimo la campagna elettorale in un paese o in una città ha un sapore e un coinvolgimento totale delle persone perché tutti conoscono qualcuno che si candida che non si candida tutti si impegnano tutti danno fuori un santino tutti fanno qualcosa quando tu alzi il livello e vai al regionale perché il provinciale non c'è più e quindi e allo Stato che sono in realtà quelli che contano di più che sono in realtà quelli che decidono tutto o in parte o addirittura le europee c'è un distacco da parte dei cittadini con la famosa frase specialmente qui in Veneto e lei la imparerà essendo toscana tanto i fa quel chi vuole a Roma e o tanto i fa quel chi vuole a Venezia e invece non è così perché quelli che vanno lì sono persone normali che si sono dedicate alla politica chi bene chi male chi ci ha riuscito chi non ci ha riuscito chi si impegna di più chi si impegna di meno ma che vanno per si presume le istanze dei cittadini e far star bene la gente la politica serve per far star bene la gente ok non è che serva ad altro ma se tu non la tieni sotto controllo e non la spingi e pensi che invece le uniche telefonate che devi fare sono quelle per chiedere un piacere al consigliere che conosci al segretario del deputato che conosci o quant'altro è un modo di impegnarsi che non va bene l'impegno è partecipare anche alla vita quotidiana politica nelle sedi dei partiti io mi ricordo che quando parlavamo della prima repubblica c'erano sedi di partito ovunque ovunque anche il partito socialdemocratico che aveva il 3% in Italia aveva sedi di partito c'erano le preferenze ma certo e condivido io tornerei alle preferenze infatti l'Italia è il paese dei balocchi perché le preferenze ci sono per i consiglieri comunali per i consiglieri regionali e per i parlamentari europei per i deputati no e questa va bene però io non vedo tutti questi deputati che vengono a fare ma guardate che io non ho mai visto come si suol dire il tacchino che si invita alla festa di Natale per il pranzo non l'ho mai visto quindi se non sono i cittadini a fargli cambiare la legge io non penso non penso che i deputati si faranno la legge in cui diranno da domani noi vogliamo le preferenze perché così chi non viene votato con nome sta a casa il problema è la relazione fra l'elettore e il suo rappresentante mentre ti sei risposto da solo io condivido quello che dici Cancian però ti sei nel frattempo risposto ha fatto la domanda e si è dato la risposta alle elezioni comunali ogni persona che siede in consiglio comunale o nella sala giunta di un comune è stato eletto o comunque contattato o in qualche modo seguito dal singolo cittadino quindi ogni persona ogni bellunese ha un'idea su di me positiva negativa eccetera eccetera compreso il consigliere comunale compreso lo stesso e tutto quando si sale di livello e si passa alla regione a qualunque regione e al Parlamento si perde completamente la sensazione che si tratti di un ente che riguarda il nostro territorio allora c'è una responsabilità sicuramente anche dei sistemi elettorali è chiaro io mi ricordo nella stagione in cui i deputati venivano eletti invece con l'uninominale tutti tutti poi c'è la quota proporzionale ma era il 25% preferivo quello io che non quello adesso ma è un altro discorso allora già lì era una cosa diversa perché tu dovevi andare a sentire i tuoi candidati decidevi quello che ti piaceva lo eleggevi e poi te lo seguivi perché te l'hai votato direttamente e volevi vedere che cosa faceva lui a Roma che è in parte quello che succederà adesso in parte però in parte solo perché il 30% è così e il resto no però non importa è meglio migliora migliora sicuramente detto questo detto questo c'è anche la parte poi di responsabilità di come tu amministri certo perché anche un comune può avere un sindaco una giunta e un consiglio comunale che vive nel suo palazzo e si disinteressa del rapporto quotidiano con i cittadini che è faticosissimo perché il rapporto con i cittadini è la parte più non la parte più faticosa è forse quella che dà più soddisfazioni ma è sfiancante io ricevo anche più responsabilità ogni giorno decine di messaggi email sms qualche volta qualche centinaio e a tutti si cerca di rispondere ed è faticosissimo anche su questioni non di sua competenza il 90% è dei messaggi su questioni che non riguardano il comune ma perché scrivono al sindaco e non vanno a scrivere al deputato perché sono l'unico che sono a contatto col territorio io intendo dire qualunque consigliere qualunque il sindaco è politico del territorio allora bisogna anche cambiare bisogna cambiare i sistemi elettorali ma bisogna anche cambiare la modalità attraverso la quale ci si relaziona con i propri elettori cioè è un salto culturale che dobbiamo fare che non è molto distante dalla questione che ponevo prima e cioè che i partiti bisogna che comincino a pensare che qualcosa hanno anche sbagliato e fra queste c'è anche il metodo con la quale si rapportano con i cittadini e bisogna cambiarlo purtroppo è successo tante volte che dei sindaci bravi sul territorio siano andati a Roma e si siano rovinati e allora si perdono può essere io penso che sia un mix delle cose che stiamo dicendo nel senso che purtroppo è di tutta evidenza che anche nei comuni vanno a votare meno persone di una volta questo segnale ormai non è più in controtendenza purtroppo anche nei nostri comuni gli 80-85% dell'affluenza di una volta ce la dobbiamo scordare vuol dire che in parte c'è una disaffezione anche nei comuni in cui il rapporto è direttissimo cioè ti trovano fuori dalla porta di casa di chiesa del municipio da qualsiasi parte anche nei comuni medio-grandi attenzione perché anche lì il rapporto con il sindaco è diretto questo elemento va tenuto in conto quindi è secondo me il segnale anche di un sistema generale in difficoltà storicamente poi se a questo ci aggiungiamo che c'è una disaffezione totale nei confronti anche il sistema dei partiti che dovrebbero mediare il rapporto con i cittadini perché i partiti di per sé nascono per quello per portare delle istanze siccome c'è una fluidità tale per cui stare da una parte o stare dall'altra uguale è questo presuppone che non ci sia più un rapporto diretto con chi dovrebbe essere il corpo intermedio che funge da selettore delle istanze da portare ognuno pensa che la propria istanza sia l'istanza generale ecco il motivo per il quale di fronte a un particolare a un problema particolare si formano delle grandi dei comitati significativi anche che poi però di lì a un momento perdono consistenza perché non c'è più il legame rispetto al fine allora va riformato in maniera generale ma io continuo a dire quello che dicevo prima cioè noi che in quota parte per momenti storici facciamo parte di questo sistema dobbiamo avere la forza di tenere la schiena dritta e di dare dei messaggi di responsabilità questo io penso che i cittadini ci chiedano noi vendiamo sempre più di quello che possiamo ottenere non solo nel momento che è paradigmatico delle elezioni in cui ci sta ma se siamo fuori sistema sempre prima o dopo ti torna indietro quel boomerang se presentiamo l'opinione pubblica delle cose che sono irraggiungibili ci tornano indietro come dei boomerang è questo che non non abbiamo la forza al nostro interno chi fa parte di questo di questo circus di darsi la regola allora siccome bisogna per essere in tv per essere sui social media bisogna venderla sempre più grande ti torna indietro io mi fermo faccio un passo indietro non porterà consenso ma dico guardate che da sindaco quasi vi vendo quello che posso vendermi se non ti candidi non è che sia un problema no no ma anche se non è se vedi ti candidi allora sarà un tuo problema no no ma lo dico in generale per il sistema in generale per il sistema è una cosa sociologica anche ma se io penso che chiunque faccia una proposta sia convinto anche di riuscire a realizzarla perché non posso partire dal presupposto che ci sia una malafede di base no perché e non sto parlando di un partito o di un altro sto parlando di un presupposto che chi ha responsabilità di governo ha anche e deve avere anche la cognizione di quello che dice e quello che fa sappiamo che non è proprio così perché tutti viviamo delle fake news degli altri no 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 aspetta il concetto è anche di base e cioè se però io vedo l'economia in un determinato modo e un altro la vede in un altro dobbiamo solo scegliere qual è delle due la migliore perché ti faccio un esempio stupidissimo perché un paese come l'Italia che è fatto di cultura e turismo perché siamo le Hawaii dell'Europa e la culla della cultura del mondo continuiamo a tentare di vivere su un manufatturiero che sta soffrendo in maniera terribile e nessuno fa niente per sviluppare in maniera determinata il turismo culturale e un turismo serio bisogna trovare le risorse per metterle ma non dobbiamo trovarle i politici questo deve fare il politico non deve dire dobbiamo trovarle deve sapere come trovarle e impegnarci su quello non per fare Napoli Reggio Calabria o il traforo del Monte Bianco per fare i francesi che non interessano in questo momento dobbiamo ribaltare gli investimenti e far lavorare la gente perché crei economia mi ha fatto venire in mente col boomerang a un convegno di artigiani vicentini un artigiano che disse quella cosa vi tornerà indietro come un bungalow che è uno del turismo erano tutte battute così refusi e strafaccioni che sono stati trascritti in un libro di Antonio Stefani che è un bravissimo giornalista di Vicenza allora prima di tornare da Dimitri Coinn vediamo il casus belli insomma i sacchetti biodegradabili che siccome sono biodegradabili vanno d'ora in poi pagati sentiamo un po' il nocciolo della polemica in questo servizio insomma a un certo punto ecologicamente va bene la gente si abitua a portarsi la borsa un po' più pesantina si diminuisce la plastica magari se prendi tre peperoni di tre colori diversi devi mettere in tre buste diverse i due centesimi pesano già al supermercato costa tutto di più in più andiamo a pagare i due centesimi del sacchetto mi sembra esagerato chi ha già fatto la spesa in questi primi giorni del 2018 si sarà sicuramente accorto che i sacchetti di frutta e verdura sono diventati a pagamento il prezzo non è uguale per tutti gli esercizi varia da 1 a 3 centesimi le associazioni di categoria hanno già stimato una spesa per il consumatore dai 4 euro ai 12 annui le opinioni dei padovani sono diverse tra chi vede come un nuovo modo per far pagare i cittadini e chi invece la considera un modo per educare la sostenibilità ecologica dà un po' di fastidio effettivamente io sono stato in tre posti e ho pagato tre sacchetti questa mattina 0,6 circa all'uno ma comunque li ho pagati e potrebbero invece dare sacchetti così ritornare sacchetti di carta naturalmente è stata una cosa anche per tutte le persone di Padova non molto gradita però io mi porto sempre dietro questa non faccio commenti perché c'è chi vuole che fa bene chi fa male certo che a fine anno uno che compra tanto la spesa c'è specialmente le persone che hanno pochissimi soldi i sacchetti non biodegradabili inquinano e non è giusto che comunque progresso ambientale costi solo sull'impresa è giusto che anche noi facciamo la nostra parte è giusto pagarle insomma avete sentito tanti pareri qui eravamo a Padova ovviamente sono sul sentiero di guerra le associazioni dei consumatori sentiamo altre reazioni altre letture poi andiamo veniamo da Dimitri il disagio e la risposta della gente segnala ancora questa frattura che c'è tra il legislatore e la gente normale la gente quotidiana dietro la rivolta popolare contro i sacchetti a pagamento per frutta e verdura c'è la lontananza tra politica e paese reale secondo il presidente del Codacons Veneto Franco Conte quella introdotta dal governo è una forma di tassazione occulta riflette ma si tratta nel peggiore dei casi di poche decine di euro all'anno per famiglia una simile reazione è senz'altro fuori misura mi aggiungono notizie che ci sono code i supermercati della gente che per cattivelia reazionaria fa marcare ogni mela ogni arancia così si spagna il sacchetto ma soprattutto è un moto di rivolta che non ha una logica sulla quantità della somma ma una logica sulla difficoltà di presentare un'iniziativa che per altro verso poi è positiva le ragioni dell'ecologia sono valide sostiene Conte quello che è mancato è la capacità di spiegarle farle capire ai cittadini ormai la gente purtroppo appunto ha questo rigetto verso le istituzioni e questo è l'episodio conferma come basta un fiammifero così banale per attivare serve un atto di responsabilità di tutta la politica invitano dal Codacons per restituire fiducia in una classe dirigente che si è finora dimostrata incapace di agire in maniera responsabile le statistiche dicono che circa il 60% degli italiani è favorevole alla misura però il risultato è che noi abbiamo il clamore di questa rivolta di persone rancorose su questo io invito tutte le istituzioni dal governo allo Stato alla nostra regione ai sindaci a cercare di creare un clima per cui questo rancore si dissolva e lascia il posto alla razionalità Franco Cosa intervistato dalla grande Tommaso Stoppa giornalista della nostra redazione di Venezia è Mestre Dimitri Coen c'è anche questo diciamo i balzelli le tasse la burocrazia è sempre un ritornello ad ogni campagna elettorale con anche qui molte prese di posizione molti buoni propositi poi però come si diceva prima c'è anche più di volte c'è la delusione di non vedere realizzate certe riforme eccetera nel caso specifico penso che la reazione sia più di principio che reale perché alla fine dell'anno se le cifre effettivamente sono quelle magari effettivamente per chi conta anche sull'euro con quei 10-15 euro però è una reazione di principio quello che francamente lascia un po' perplessi è il fatto che perché punire un esercente nel caso in cui voglia regalarli questo effettivamente è il passaggio questo è il passaggio che lascia l'idiozia della legge esatto che lascia infastiditi ma ci sono anche altri aspetti ancora più complessi e che anche secondo me è una cosa che non esiste perché a questo punto lo metti in conto e lo sconto dopo cioè volendo ma se ti parlano fino a 25 mila euro di multa per le licenze multa che può arrivare fino a 100 mila euro qui parliamo di leggi parliamo di parlamento quindi c'è qualcosa che non funziona oppure c'è anche un diversivo per distrarre la gente su altri temi secondo lei dal territorio c'è abbastanza ci sono sufficienti sollecitazioni nei confronti ai nostri parlamentari parlo dei parlamentari veneti che sono 74 quando c'erano le audizioni per l'autonomia ricordo erano qui in 11 forse forse anche meno nel senso che a volte o non li vedi o non risulta che facciano grandissime cose alcuni ovviamente hanno record di presenze tante proposte di legge però fondamentalmente per questa regione i parlamentari cosa fanno poi alla fine anche da questo punto di vista qua le imprese che chiudono la gente che dorme in macchina gli indigenti che continuano ad aumentare cioè voglio dire poi si parla di tassa di reddito di dignità lo Stato centrale ha fatto pochissimo per la regione anzi ha fatto l'esatto contrario di quello che avrebbe dovuto fare perché tagliando continuamente le restituzioni le risorse agli enti locali li ha messi in difficoltà e se come si diceva prima le amministrazioni comunali sono il primo sportello il primo front office dei cittadini è chiaro che se non puoi dare risposte automaticamente anche il cittadino si demoralizza e si demotiva tornando però alla riflessione fatta prima volevo un attimo puntualizzare un passaggio che ha toccato Bisato nell'inizio del suo intervento non è vero che nelle amministrative va a votare l'80% perché se si arriva al 60% come diceva Bisato se si arriva al 60% oggi è da star contenti perché si va dal 50% al 60% quindi la preoccupazione è che se nemmeno il sindaco che è il tuo primo interlocutore il consigliere comunale che si candida che magari conosce il tuo vicino di casa ti spinge ad andare a votare vuol dire che c'è che c'è anche un sentimento disfattista nella gente e se spostiamo tutto questo alla politica centrale romana manca un passaggio mancano sono tre secondo me gli attori abbiamo toccato il cittadino abbiamo toccato il politico ma manca tutta la struttura dello Stato che alla fine è quella che rende il politico a volte ingenuo e annulla il voto del cittadino che esercitando la democrazia quindi il suo diritto di voto pensa di votare il politico che a sua volta pensa di andare là e poter fare qualcosa e si scontra con la realtà del palazzo i dirigenti che sono là da 20 anni 30 anni che alla fine non consentono di fare nulla e siccome io 5 anni in regione li ho fatto ti dicono anche guardi consigliere che lei passa io no esatto è il sistema che va toccato non una singola parte non il cittadino non la politica tutto l'insieme perché se si cura tutto l'insieme si può forse guarire altrimenti è difficile allora che sia pirodi poi parleremo anche di donna in rosa da commerciante esatto volevo solo aggiungere un piccolo contributo allora questo è un provvedimento che è stato inserito credo come emendamento in finanziaria e dava a seguito a una direttiva comunitaria che però non dava delle scadenze precise mi sembra insomma di aver capito non dava neanche questi parametri esatto quindi a questo punto siccome anche questa è una cosa che è stata decisa in un brevissimo periodo di tempo c'è nel giro di non so un mese in quattro mesi il governo decide appunto di far pagare agli italiani questa cosa che non ho ancora capito se è una tassa o se è comunque qualcosa che va a beneficiare il produttore dei sacchetti vabbè qua non si capisce bene non si capisce bene però allora anche qui i cittadini perché c'è in qualche modo questa rivolta perché comunque si sentono si sentono beffati beffati due volte primo perché allora per provvedimenti di questo genere il governo inserisce l'emendamento in finanziaria e passano passano in un periodo breve ci sono altre istanze di cittadini che invece giaciano in Parlamento per decenni e a cui nessuno dà mai risposta quindi quando vogliono i politici nel giro di pochi mesi danno attuazione anche a direttive comunitarie che non hanno scadenze e poi dal punto di vista appunto dei commercianti o comunque chi gestisce l'attività soprattutto i supermercati credo abbiano il problema più grande si sentono in qualche modo esattori perché non è vero che da quello che ho capito però devo magari informarmi meglio il costo è già codificato in cassa quindi comunque il sacchetto passa ma non passa il sacchetto passa l'etichetta quindi probabilmente le code che di cui appunto faceva riferimento il responsabile dei consumatori sono sono conseguenti al fatto che io devo passare l'etichetta ma ti devo stornare il sacchetto il gestionale esatto quindi devo farti lo sconto perché altrimenti ogni etichetta ti devo per forza mettere in conto il sacchetto che tu in realtà non hai preso quindi effettivamente è un caos anche per chi ha la problematica di gestire in cassa questo genere di operazione perché appunto poi cioè non glielo poi perché altrimenti il consumatore si trova nello scontrino abbinato all'etichetta che è attaccato al mandarino all'arancia o piuttosto alla mela il sacchetto che non ha preso quindi cioè veramente non si capisce non si capisce il senso di questa cosa questo punto bisogna chiederlo al governo che c'era non possiamo chiederlo a qualcun altro perché l'emendamento lo ha fatto il governo le aziende straniere vengono ad acquistare le aziende italiane soprattutto venete per ridimensionarle e togliere un competitore pericoloso dal mercato internazionale questa è una lettura frequente il piano calergi il complotto insomma si dice spesso questa è una lettura che vediamo molte volte per me c'è solo tanta confusione e complicazione in questa legge elettorale fatta per non far votare vediamo un altro un ultimo servizio sui sacchetti poi chiudiamo il sacchetto non ne parliamo più vediamo vediamo di cosa si tratta qui è un disastro insomma già abbiamo tante di quelle spese e sono aggravate ancora altre spese per le famiglie è diventato veramente difficile diventamente difficile e non è giusto una cavolata ognuno può portarsi il sacchettino oppure prenderlo pagando quello che deve pagare da una parte penso sia anche giusto perché la gente li porta a casa li usano come se fossero niente sta bene a noi perché ci meritiamo queste e altre siamo noi che siamo incivili in Italia le cose che non si pagano ci siamo capiti si pagano si pagano tutti pagheremo anche quelle penso che è uno schifo tanto è tutto uguale voglio dire non è che cambia niente leggevo l'altro giorno che ogni famiglia all'anno sanno 12 o 15 euro di più di spesa all'anno ne abbiamo già di altre quindi fermiamoci un poco mi sembra che non sia giusto una cosa del genere no no troppo proprio pagare sempre tutto troppo troppo abbiamo visto che ogni supermercato ha un prezzo diverso allora Linda Collini quando ci sono queste proteste c'è sempre ovviamente c'è sempre il problema degli schei nel senso che se uno ha un ottimo stipendio vive serenamente dignitosamente insomma riesce a superare anche queste difficoltà quando c'è rabbia quando c'è ci sono disagi allora ogni pretesto è buono per lei come vede da attrice parlo anche del suo campo del suo settore si parla spesso di ragazzi laureati di chi ha fatto commercialista avrebbe dovuto fare il fresatore il saldatore perché oggi si cercano certe nel vostro settore nel cinema nel cinema in particolare che che occupazione che livelli di occupazione ci sono perché di quello non si parla mai precari al massimo ma come sappiamo siamo dei precari a volte di lusso ma genericamente si sa che l'attore sta davanti al telefono il telefono magari non squilla poi squilla poi per due anni non squilla più ma è così è proprio questo cliché del lavoro proprio molto occasionale allora io appartengo ad una categoria diciamo degli attori che sono stati anche fortunati diciamo così privilegiati fortunati ho studiato per fare quello che faccio infatti molti che mi chiedono come si fa a fare questo lavoro bisogna studiare non c'è una laurea che ti laurea in recitazione però comunque ci sono delle scuole scuole serie scuole serie bisogna avere anche un po' di talento infatti approfitto anche insomma di questo palco anche per dire che comunque bisogna sempre affidarsi a dei professionisti in questo ambito perché molti ragazzi mi fermano chiedendomi che cosa si può fare per fare questo lavoro studiare ma affidarsi a persone serie quindi lasciarsi consigliare e soprattutto insomma circondarsi di persone che veramente vogliono il tuo bene e non vogliono i tuoi schei perché molto spesso è questo scuole che costano migliaia e migliaia di euro per darti un semplice attestato quando in realtà non interessa la tua professionalità ma semplicemente come si fa a non finire nelle mani di qualche appunto lasciarsi consigliare posso parlare della mia esperienza io avevo vent'anni quando quando volevo iniziare a fare questo mestiere io sono di Prato ho iniziato a Firenze quindi vicino a casa in una scuola che mi avevano consigliato dicendo guarda va lì è una scuola di teatro ovviamente insomma a carattere amatoriale e io ho provato più che altro a capire innanzitutto se mi piaceva farlo perché non è così semplice come si può pensare fare questo lavoro e anche il nostro ambiente non è semplice proprio perché il lavoro dell'attore l'attore viene visto come quello che sta davanti al telefono che aspetta di squillare ecco se così è vero non è semplice uno dei miei più grandi insegnanti mi diceva che il lavoro dell'attore è il lavoro più bello del mondo e io lo posso confermare perché è veramente bello ma è anche il più difficile del mondo perché è difficile farlo è difficile farlo seriamente è difficile farlo in maniera continuativa insomma si lotta anche anche in questo ambito però insomma io sono stata privilegiata da questo lavoro molto difficile non è una passeggiata se volete modificare la Costituzione dovete chiedere per ogni modifica di articoli il parere degli italiani e non la fiducia del Parlamento capito? allora dobbiamo andare in pubblicità speriamo un giorno non lontano di avere nel nostro network con il nostro editore Giovanni Iannacopoulos con suo figlio Filippo una produzione interna nostra di fiction di cinema soprattutto ovviamente territoriale per dare anche occupazione a tutti i ragazzi a tutte le persone che hanno voglia di intraprendere una carriera cinematografica o televisiva e possono in un grande gruppo trovare delle opportunità speriamo speriamo prossimamente grazie andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo a tutti i ragazzi e torniamo a tutti i ragazzi e torniamo a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi